Benvenuti al Conad Superstore, in via del Novecento a Pesaro. La nostra accoglienza è differente. Per voi colazioni, pranzi veloci e aperitivi. Vieni a scoprire il nostro nuovo reparto cucina. Piatti preparati da noi ogni giorno pronti da gustare. E poi ancora carne di qualità, pesce fresco locale, pane e dolci lievitati e cotti in sede, tante specialità pronte da cuocere. E se vuoi, ti portiamo la spesa a domicilio. Conad Superstore Novecento, le persone, la nostra forza.